Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Oggi voglio parlarvi del protocollo di messaggistica XMPP e del server XMPP Prosody. Io l'ho installato a casa su un Raspberry PI e voglio metterlo anche a disposizione di voi miei iscritti YouTube per chattare tra di noi. Ho creato una stanza appositamente per questo scopo e lì potremmo chiacchierare. In modo libero. Allora, intanto quali sono i vantaggi di avere un proprio server di messaggistica? Beh, che il controllo è tutto nelle tue mani. Ovviamente puoi vedere, puoi toccare con mano, sai esattamente quello che registra e quello che non registra il tuo server e sai che le conversazioni passano esclusivamente da casa tua, sul tuo server. E non vengono tracciate da nessuno. Non ti appoggi a nessuna multinazionale ma fai tutto da te. Allora, prima di cominciare a vedere un po' come configurarlo, vi mostro direttamente come creare un account sul mio server e come raggiungere la stanza che ho creato per poi chattare. Spero che vi faccia piacere, insomma. Allora, vi serve un client XMPP, ad esempio Pitchin, ma ce ne sono veramente tantissimi, sia per Linux, sia per PC, sia per Android. Comunque qua ho il mio bel Pitchin. Vado su account e aggiungo un nuovo account. Come protocollo dobbiamo scegliere ovviamente XMPP. Come nome utente voi scegliete un vostro nome utente, ma vi chiedo per favore di iniziare con Yt, che sta per YouTube. In questo modo so che voi siete i miei iscritti YouTube. Dopodiché potete mettere benissimo un nome a fantasia. È chiaro che io preferirei che voi metteste il vostro account, il vostro nickname che avete su YouTube, in modo che vi possa riconoscere al meglio. Comunque è importantissimo che iniziate il vostro nome, il vostro nickname, con Yt. Poi inserirò prova, quindi Yt prova, poi ci va la chiocciola. Ah, scusate, certi programmi vogliono chiocciola e il dominio. Pitchin invece vuole solo il nome utente, quindi quello che va prima della chiocciola, e quello che va dopo della chiocciola va nel dominio. E il dominio è chat.clarintuxmail.eu.org Allora, ripeto, per Pitchin dovete solo scrivere il vostro nome qua, il vostro nickname, e poi il dominio. Per altri programmi dovete combinare le due cose con una chiocciola. Quindi il nickname, la chiocciola, e poi chat.clarintuxmail.eu.org Benissimo, poi scegliete una password, cliccate, spuntate la casella per ricordare la password, e spuntate la casella per creare un nuovo account sul mio server. Poi potete anche scegliere un alias, ad esempio, dato che l'ho chiamato Prova, mettiamo come alias Prova. Potete anche scegliere un avatar. Comunque, andiamo su Aggiungi. Poi scriviamo, ripetiamo il nostro nickname, quindi YouTube Prova. La password che abbiamo scelto, clicchiamo su OK, ed ecco che la registrazione è avvenuta con successo. Vado a debilitare l'account, eccolo qua. Quindi si sta connettendo, ed ho già ricevuto un messaggio di benvenuto da parte del mio server. Dopodiché, allora, andiamo su Entra in Chat. Entra in Chat, qua già vi viene preconfigurato il server. Voi dovete soltanto scegliere la stanza. La stanza si chiama Chat Room. Quindi scrivete Chat Room, identificativo lo lasciate così com'è, è l'alias che avevamo scelto, senza password. Andiamo su Entra. Ecco, e siamo sulla stanza che ho creato. E come vedete, come argomento, ho scelto GNU Linux. Quindi, va bene, vi chiedo, se avete intenzione di registrare un account, di inserire all'inizio YT e poi un nome a piacere. Va bene, vi faccio vedere poi come ho configurato il tutto. Per il momento non credo che farò un tutorial su come configurare i prosodi. Comunque, per chi fosse interessato, ho scritto un articolo sul mio sito, sul mio blog. Quindi andate su clarintuxmail.eu.org E sull'articolo configurazione del mio server parte 3. Lì ho scritto abbastanza su prosodi e spero che sia chiaro. Comunque, vi linkerò questo articolo in descrizione sotto al video. Però adesso andiamo sulle parti più salienti di prosodi. Il file di configurazione si trova su //etc//prosodi E il file è prosodi.cfg.lua Adesso, questo è un file abbastanza lungo, anche perché è pieno di commenti. Ma io ne sono fatto una versione più rimpicciolita Dove ci sono veramente solo le cose che ritengo più interessanti e quindi ve le mostro Allora, il file si presenta così C'è una riga per gli amministratori del server Ovviamente, se vi fate un server e vi mettete come amministratori Potete aggiungere anche qualcun altro come amministratore Nel mio caso abbiamo Clarintux Clarintux sul server chat.clarintuxmail.eu.org Poi abbiamo una linea per i plugin Sì, perché prosodi ha anche diversi plugin che possono essere installati E poi tutta una serie di moduli che possono essere abilitati e disabilitati Ad esempio di interessante C'è Register Che permette la registrazione di un account sul server Tramite un qualunque client xmpp Quindi molto comoda come cosa Poi ancora c'è Welcome Tramite cui è possibile dare un messaggio di benvenuto ai nuovi iscritti Poi watch registrations Che permette all'amministratore di ricevere una notifica Quando qualcuno si registra sul server E come vedete Welcome message In questo modo possiamo impostare un messaggio di benvenuto Poi c'è anche la possibilità di inviare un messaggio Ogni volta che qualcuno si connette Ogni volta che qualcuno va online Allow registration Ripeto è per permettere la registrazione tramite un qualunque client xmpp E poi andiamo alla configurazione vera e propria con virtualhost Qua scriverete il vostro dominio Nel mio caso chat.clarintoxmail.eu.org Credo che sia possibile anche inserire un semplice indirizzo IP Comunque Ottenere un dominio non è qualcosa di difficile Un dominio .com Si può acquistare Non credo che costi molto Ma questo dominio che vedete qua è un dominio ottenuto in modo assolutamente gratuito Su nick.eu.org Ti danno un dominio Tu devi solo fare la richiesta e aspettare Dopo che si è ottenuto un dominio Beh bisogna andare sul server DNS Ad esempio su cloud Cloudflare Ed impostare un R record con il proprio indirizzo IP Da quel punto e poi Abbiamo il nostro bel server di messaggistica O qualunque altro tipo di server Sempre raggiungibile E quindi possiamo utilizzare Prosody tramite dominio Come ho fatto io qua Le righe che seguono sono le righe del certificato Let's Encrypt Va bene non approfondiamo la cosa E poi abbiamo La possibilità di creare delle stanze multichat Una specie di gruppo whatsapp per intenderci Va bene io direi che il video già è abbastanza lungo Se volete approfondire il tema Beh Sarebbe bene conoscere l'inglese Oppure leggete il mio articolo E nel caso non capiste qualcosa Fatemelo sapere Mi aspetto che almeno qualcuno si iscriva Mi aspetto un po' di interazione sul mio server Sarebbe bello Qualcuno qualche tempo fa mi ha chiesto Se avesse intenzione di aprire una pagina O non so cosa sia su Mastodon Ecco beh Questa è la mia risposta Mi sono fatto un server xmpp E un server web E un server email Anche questi Altri due temi interessanti Insomma mi sto divertendo un sacco Spero che l'argomento sia interessante anche per voi Io vi saluto E ci vediamo alla prossima Ciao